Musica Da questa prima collaborazione con Bolsan nasce una famiglia di prodotti pensati per stare accanto al letto. Abbiamo iniziato a ragionare su dei piccoli tavolini che potevano essere anche contenitori e per la prima volta Bolsan aveva anche intenzione di inserire un comodino vero e proprio con un cassetto nel suo catalogo. L'idea è stata proprio quella di creare una famiglia che avesse la possibilità di variare. In questa prima edizione abbiamo deciso di scegliere dei colori che potessero essere già in linea con il catalogo di Bolsan. Abbiamo scelto un blu lucido, un verde acido e un grigio chiaro. Per questo progetto ho preso ispirazione dal lavoro di Le Corbusier. Ho deciso di fare riferimento a quello che era Maison Domino dove l'architetto ha deciso di lasciare la pianta libera e la struttura a vista. Anche per il mio progetto ho cercato di creare un pilastro capace di sostenere il piano e che fosse in grado anche di chiudere la struttura vera e propria. Abbiamo questi tre piani che vengono chiusi solo in questo punto. Il pilastro chiude la figura proprio della struttura. Andremo a inserire un ripiano più in basso a questo livello e poi inseriremo anche il cassetto. Altra piccola intuzione di questo progetto è stato quello proprio di avere il pilastro. Si potesse inserire sia sul lato destro e sul lato sinistro del letto, postando semplicemente questa colonna. Stiamo già lavorando sull'ampliamento di questa famiglia che possa essere in grado anche di entrare non solo nell'ambiente letto ma anche un po' più nell'ambiente casalingo. Stiamo già lavorando sull'ampliamento di questa famiglia.